Poco dopo le 8 di stamattina due squadre dei vigili del fuoco di Verona sono intervenute in via Flavio Gioia per un incidente stradale. Percorrendo la viabilità nei pressi del casello autostradale di Verona Sud, un auto articolato che trasportava patate si è rovesciato ed è rimasto in bilico sulla viabilità sottostante. I pompieri hanno tagliato il parabrezza del mezzo e consentito l'uscita al conducente e rimasto intrappolato nella cabina. Precauzionalmente l'autista è stato condotto per controlli presso l'ospedale di Verona. L'evento ha generato ripercussioni sulla viabilità gestita da Polstrada e Polizia Locale. Le operazioni di recupero del mezzo e del carico si sono protratte a lungo per poter mettere in sicurezza e bonificare la zona.